Salve ragazzi, siamo qui oggi perché sono riuscito a reperire in maniera assolutamente fortuita questa guida ufficiale di Final Fantasy XII, completamente sigillata, ed infatti ci sta ancora la pellicola. Final Fantasy è un gioco a cui sono legatissimo, soprattutto il XII è uno dei miei preferiti e volevo aprirla con voi. Allora, vediamo un po'. Guido ufficiale PG Back Interactive. Queste guide ragazzi erano troppo belle, io mi ricordo quelle di Kingdom Hearts erano qualcosa di assurdo. Vediamo se anche questa è dello stesso livello. Mamma mia quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi. Bellissimo. Tutta la scacchiera in pratica in cui praticamente ti potevi sbloccare tutte le armi, gli abiguaggiamenti, perché bisognava prima appunto sbloccarsi il rispettivo abiguaggiamento sulla scacchiera e poi poterla abiguaggiare. Basque, mamma mia, personaggio grandioso. Uno dei miei preferiti. Veramente assurda. C'è praticamente nuova. Questa guida avrà almeno vent'anni. C'è qualcosa di assurdo. Bellissimo. Tutte le equippe. Ah, poi ci sono gli esper. Che cose erano queste cose, è troppo bello. Il Gambit che praticamente era il sistema di combattimento del 12. Per cui praticamente potevi preimpostare l'attacco e faceva tutto da solo. No, vabbè. Spaziale. Proprio gli artwork originali. Queste guide, ragazzi, erano qualcosa di assurdo. Cioè, erano fatte non bene, di più. E costavano niente. Cioè, costavano 10 euro, 12 euro, quanto costava. Adesso, ovviamente, non si trovano più a quel prezzo perché sono introvabili, soprattutto in queste condizioni. Sono stato veramente fortunato a trovarlo in mano a un ragazzo che se l'ha venduto e lo aveva ancora sigillato. Bello. Tutte le statistiche delle armi. Madre, quanti ricordi ci vorrei rigiocare adesso a Final Fantasy. Che tra l'altro adesso è uscita anche la Zelda via Cage. Sicuramente è un plus, visto che hanno migliorato parecchie cose, quindi ci giocerò sicuramente. Ah, ok, qua erano i generali. Madre, che cos'erano i generali? Spettacolo, ognuno era caratterizzato benissimo. La storia era molto bella, molto fatta da intrighi politici. Comunque, pure il gameplay, un open map davvero fatto bene. Guarda tutte le statistiche di tutti i mostri. Madre, quanti boss c'erano. Cioè questo era uno dei giochi con più boss in assoluto. Qualcosa di assurdo. Il mare di sabbia. Il deserto dell'est era troppo forte. E poi era proprio bello scoprire i posti perché potevi raggiungere addirittura dei territori saltando dei boss legati ad altre mappe. Cioè non era una cosa lineare dovevi la foresta stregata. Mamma mia. Questa parte del gioco era difficilissima. Praticamente in questa foresta c'era una nebbia che non ti permetteva di vedere dove andavi. E praticamente era tutto blind la scoperta della mappa. Bellissima. Ciruega nel posto appunto dopo la foresta che era... C'erano dei mostri fortissimi tipo questo. Era molto forte. Vabbè questo è diciamo verso la fine del gioco. Non voglio spoilerare nulla. Poi ogni mostro ha un'immagine. Vabbè il nome ovviamente, delle caratteristiche, cosa si può rubare. Cioè ha fatto proprio... Soluzione. Vabbè artwork rimasti nella storia. La mappa signori. Ma che mappa era? Guardate qua. Ivalice. Bellissimo. Veramente... Cioè soprattutto questo tratto della mappa. Cioè quello che andava dalla Banasta ad Arcadia era qualcosa di assurdo. Cioè una mappa davvero spettacolare. Desetto Est. Madonna mia. Qui per andare da... Da questa sponda a questa. Madonna mia. Quante missioni che dovevi fare. Cioè è assurdo. Era pensato... Era pienissimo il mondo di gioco. Si facevano qualsiasi cosa. Ah bellissima questa pianura che praticamente... Vedete sta scritto stagione secca. Praticamente a seconda delle volte in cui c'entravi poteva cambiare la stagione. Quindi cambiava praticamente tutta la mappa. Diventava da deserto a diciamo palude. E ti permette di accedere a zone. La palude che non potevi accedere quando stavi nel deserto. Spettacolo. Cioè cose proprio... Chicche proprio di altissimo livello. Vabbè questo è... Diciamo quasi inizio del gioco. I canali. Questi canali pure erano insidiosi con l'acqua e le chiuse. Tutte le zone... Tutti i dungeon diciamo erano veramente strutturati in maniera differente. Bellissima questa tomba. Questa appunto nel... Diciamo... Era una parte molto importante del gioco. Cioè anche a livello di storia. E qua c'erano... Mi ricordo in questa via. C'erano praticamente dei muri che tipo ti schiacciavano contro la fine della parete. E quindi dovevi fare una... Un combattimento a tempo praticamente. Perché dovevi riuscire a distruggere il muro prima che ti schiacciasse contro la parete. Cioè cose... Altri tempi, altri giochi. Assolutamente. Bellissi il primo esper. Un mondo veramente fantasy di tutto rispetto. Tutto rispetto. Veramente. Cioè l'avevano pensata in maniera... Quasi come un MMORPG. Vi dirò la verità. Era molto studiato bene. I vari boss barra esper. Perché praticamente gli esper erano... 13. Cioè come le costellazioni. 12-13. Una cosa del genere. Comunque erano molto belli. Anche se si utilizzavano di meno. Perché... In realtà era molto... Cioè durante l'esperienza di gioco... Non ne catturi tantissimi. Infatti l'esplorazione in questo gioco era qualcosa bellissima. Una cosa fa... Cioè si... C'era... Si esplorava veramente... Eccolo il fratello di Van. Rex. Giruvegan. Madre. Cioè Giruvegan praticamente era tutto nell'etere questo... Questo posto. E' praticamente all'interno del cristallo. Perché comunque... Se siete un po' avvizi alla saga di Final Fantasy. E' tutta piena di cristalli. Questo posto. Praticamente un livello difficilissimo da superare. E... Infatti poi pure all'interno del cristallo. Mamma mia. Ah questa sì. Questa era una cosa che... Cercavo sempre la mappa del cristallo. Cioè sta cosa era praticamente impossibile da capire senza una guida. Questo livello era qualcosa di assurdo. Infatti... Ora che so... Esatto infatti. Tutte le possibilità con cui andare ti poteva... In cui potevi finire. E senza una mappa già strutturata. Cioè non dico che era impossibile ma quasi. Molto bello. Vabbè... La parte finale è veramente una parte di... Cioè... Lo potevano strutturare solo quelli di Square. Perché... Praticamente il faro è un livello di 100 piani. Però in cui ogni piano è giocabile. Cioè nel senso... Vedete questi qui sono tutti vari piani. E... E... Praticamente... Era... Era... Difficissimo. La torre... Cioè il... Il faro di ridona era qualcosa di difficile. Perché si andava nei sotterranei. E... Fino alla... Dai sotterranei. Infatti erano... Praticamente... Tutto il post game. Cioè questo è stato tutto il mio post game. Il faro di ridona. Fino alla sommità. E infatti eccoli qui i sotterranei. Madre. Difficilissimi questi... Questi livelli qui. Però... Voglio rigiocarci. Naboudis. Bellissima. Città... Sprofondata nella palude. Qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo. Qualcosa di assurdo. Poi praticamente il gioco è pieno di missioni secondarie. C'era il... Ah eccolo. L'extra più bello. Era il coo degli aviopirati. In cui ti sbloccavi praticamente tutte queste cose. Bello dai. Ci devo rigiocare. Bene ragazzi. Spero questo video vi sia piaciuto. Mettete un like. E condividete. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.